Se ti fermi a guardare le cose che vuoi e ti accorgi che poi non lo sai, se ti fermi a guardare le cose che hai e ti accorgi che poi non le vuoi, se ti fermi a guardare più in alto di te e ti accorgi che sopra non c'è, non c'è niente di quello che cerchi e allora cosa è? Se ti fermi a guardare qualcosa per strada e ti accorgi che è presto però, non si può perder tempo a cercare qualcosa e ti accorgi che è tardi però, non importa che cerchi per forza una cosa, una cosa che dopo non c'è, non c'è niente che conti qualcosa e allora cos'è? E' una donna, una donna, una donna per te, una donna, una donna, una donna cos'è? una donna, una donna, una donna, una donna con me una donna, una donna, una donna e le forse lo sa una donna, una donna e comunque sarà una donna, una donna, una donna, una donna, una donna per me Ai, 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 ai 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 Non ricordo Se ti fermi a guardare le cose che vuoi, e ti accorgi che adesso lo sai, se ti fermi a guardare le cose che hai, e ti accorgi che adesso le vuoi, se ti scopri a guardare più in alto di te, ora sai che là sopra non c'è, non c'è niente di quel che credevi, però adesso c'è. C'è una donna, una donna, una donna per te, ma una donna, una donna, una donna cos'è? Una donna è una donna, una donna, una donna com'è, una donna è una donna e le forze lo sa, una donna è una donna e comunque sarà, una donna, una donna, una donna, una donna per me. La 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 la... Grazie a tutti Grazie a tutti